Questo che è? Allora, questo grigio è un cavallo che si è segnato nelle previsite segnato nelle previsite ora gli diamo la coperta e faccio vedere poi dopo lo taglio io tutto insieme come si chiama? Si chiama Ares questo ancora c'era facile sai cos'è? No, il tuo ruolo le fanno? come si chiama? Aresbe se poi li scriviamo noi se non ti sbaglio Lui è il sattocino di quello che c'è a Semastriano Ungerossi? Ungerossi spesso ma è babbo e fisico così Ungerossi è tanta roba Eh si anche lui si muove molto bene molto leggero ma l'arretto ma l'arretto ma l'arretto ma l'arretto ma l'arretto ma l'arretto c'è da lavorare per la portata delle previsite ok e questo è uno poi dopo li taglio ci mettiamo in onda dopo li scriviamo se no io li sbaglio sicuro questo è il faraputto il ciclista lui invece fa il corrido di bicicletti questo invece è? questo si chiama Arlo come Arlo? Arlo Arno Arlo Arlo visto questo è un po' che è stato un po' che è stato il ciclista Francesco Arlo e anche lui ha 15 anni che viene a due po' che è stato un po' forte se non ci sei perché non c'è il minofo ho detto la preparazione ancora non è al fondo che è stato il tempo il tempo c'è un po' che è stato un po' sotto è messo bene è stato orto benissimo Arlo benissimo Arno non le tiriamo fuori perché con questo vento faremo solo danno oggi ho un problema ho un problema lui fa le quali ah eh e fa poco insomma è una famiglia di cavallini fatti giusti insomma così è una città un po' da un po' per me non si Texton e lo le mangia ah le mangia dove a ma un Lui si chiama, ha detto? Lui si chiama Caracalla. Caracalla. Con tre anni. La mamma si chiama Marvolada e sorella piena di Uciva. La famosa Uciva. Esatto. Cavalletta anche quella. Eh. E insomma, il sangue... Se il sangue lo vi dice conta... Che non hanno furia. quella è una bella cosa perché la gattina frettolosa venisse a pesare tutti i gattilicei se non debuta a maggio debuterà sicuramente bene, allora se ripetiamo il nome questo è Caracalla nei termini Caracalla facciamo anche pubblico